musica 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 weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo contest io sono xuder ora finalmente ce l'hanno fatta arrivare al numero richiesto 23 contest numero 23 si quello lo sapevamo sono riuscito ad arrivare al numero richiesto di iscritti per poterlo fare erano già 3 o 4 giorni che non regalavamo un buono da 10 euro a uno di voi ragazzi ma visto che ce l'avete fatta mi raccomando la pamina vi spiega quello che dovete fare allora dovete dire innanzitutto dovete commentare sotto con la parola che vi diremo tra poco che è la vespa assassina la vespa assassina dovete commentare il video con questa frase e mettere un mi piace puoi seguire la live ma il momento dell'estrazione sarà alle 10 ore 22 quando estraremo il nome del fortunato vincitore dovrà rispondere con un con la sua mail e verrà contattato subito esatto ragazzi quindi mi raccomando commentate sotto questo video con la parola che ha detto la pami alle 22 estrazione il commento entro 30 secondi e poi vale un commento è qui sotto non di più mi raccomando eh solo quello che abbiamo richiesto mi raccomando noi ci vediamo in live ciao la vespa assassina oh 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 ciao ciao ciao